Ci sono anche alcuni pesaresi fra i 13 indagati dell'operazione della Guardia di Finanza di Rimini, denominata Cheope, che questa mattina ha fatto scattare il sequestro di 7 milioni e 300 mila euro fra immobili e disponibilità finanziarie conseguente allo smantellamento di un sistema di vendita piramidale di integratori alimentari. Un sistema basato sul reclutamento di nuovi clienti venditori che viola la normativa italiana. La società in questione è la V Italia, ai cui vertici figura un 35enne sanmarinese a capo di 13 persone oggi indagate per lo stesso reato. Nei guai un altro sanmarinese, un romano, un foggiano e nove residenti tra Rimini, Cesena e la provincia di Pesaro. Le indagini partirono ben sette anni fa e hanno permesso di individuare in provincia di Rimini i vertici della rete di vendita della società con sede legale a Milano specializzate in integratori alimentari prodotti da una multinazionale statunitense. La vendita avveniva con il sistema del porta-porta, mentre il reclutamento dei venditori avveniva sui social network e nel corso di convention organizzate. La società nel 2020 fu anche al centro di un servizio TV di striscia alla notizia in quanto le vendite ai consumatori finali generavano un ingente debito IVA mai versato nelle casse dell'erario italiano. Secondo le indagini, nella rete della società sarebbero finite almeno 10.000 persone. Molte di queste figuravano come persone in cerca di prima occupazione, mentre altre, illuse dal progetto, avevano addirittura abbandonato la loro precedente attività lavorativa. E sono proprio queste le reali parti offese dal sodalizio criminale. Le quote di adesione allo schema andavano da 500 a 1.000 euro, creando un sistema che ingenerava false speranze di guadagno in coloro che partecipavano, partendo da cifre di accesso sproporzionate al reale valore dei beni acquistati.